E' risultato positivo al drug wipe perché aveva assunto cocaina ed era alla guida della sua auto. Per questa ragione una giovane ragazza di 26 anni di Trieste è stata denunciata in stato di libertà dai carabinieri. I militari del nucleo radiomobile e del comando provinciale l'hanno fermatene per un controllo nella serata. La giovane si è rifitata di sottoposti e successivi accertamenti clinici e dunque le sono state applicate le sanzioni accessorie del ritiro della patente di guida e la sospensione da parte della prefettura nonché il sequestro amministrativo del veicolo finalizzato la confisca.